Virginia Woolf, 1882-1941, Gita al Faro, 1925, Signora Ramsey «Ma che ho fatto della mia vita?» pensò la Signora Ramsey, prendendo posto a capotavola e osservando i piatti che vi creavano dei dischi bianchi. «William, siede accanto a me?» disse. «E lei, Lily?» soggiunse affaticata. «Laggiù. Loro avevano qualcosa, Paul Rayleigh e Mintadoyle. Lei soltanto questo, un tavolo infinitamente lungo e piatti e coltelli. All'altro capo del tavolo era seduto suo marito, accasciato, accigliato. Perché? Non sapeva, non le importava, non capiva come avesse potuto provare per lui emozione o affetto. Aveva l'impressione, mentre serviva la minestra, di essere al di là di tutto, come se ci fosse un vortice laggiù. E si potesse starci dentro oppure fuori. E lei ne era fuori. Inarcando le sopracciglia a quel divario, da un lato i suoi pensieri, dall'altro le sue azioni, distribuiva a minestra. Si sentì sempre più al di fuori di quel vortice. O le parve che fosse calata sulle cose un'ombra, che sottraendo loro il colore, le consentiva ad osservarne la vera essenza. La stanza, si guardò intorno, era di uno squallore estremo. Non c'era traccia di bellezza da nessuna parte. Non c'era traccia di fusione. Sedevano tutti separati uno dall'altro. E lo sforzo di fondere, di far convergere, di creare, gravava tutto su di lei. E di nuovo, senza rancore, come un dato di fatto, sentì la serialità degli uomini. Perché, se non ci pensava lei, non ci avrebbe pensato nessuno. E quindi, dandosi quella leggera scossa che si dà ad un orologio che si sia affermato, fece ricominciare quella vecchia pulsazione familiare. Fece ricominciare il ticchettio dell'orologio. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Forza, forza, ripetì ascoltandola, proteggendo e incoraggiando quella pulsazione ancora debole, come si fa schermo a una fiammella con un giornale. E dunque, concluse, rivolgendosi a William Banks, con un silenzioso cenno del capo, quel povero uomo, senza moglie né figli, cenava con l'eccezione di stasera, solo, in una pensione. E con un senso di pietà nei suoi confronti, la vita era tornata abbastanza forte da trascinarla con sé. Cominciò di nuovo a darsi da fare, simile a un marinaio che, esausto, privo del desiderio di rimettersi in viaggio, vede il vento gonfiare le vele. E pensi che, se avesse fatto un naufragio, trascinato nel turbinio delle acque, avrebbe trovato finalmente riposo sul fondo del mare.